allora eccoci qui dovremmo essere bene finalmente online dovremmo essere online in diretta come tutti i lunedì aspettiamo un secondo che parta bene lo streaming su tutte e due le piattaforme quindi su youtube e su facebook direi che su facebook è partita mentre su youtube ok si sta partendo anche su youtube ok io dalla mia energia sto vedendo tutto bene benissimo allora buonasera benvenuti e benvenute a tutte voi amiche amici del trucco permanente a questa nuova video lezione in diretta e stasera parliamo di un argomento che è molto familiare ovviamente al trucco permanente perché parliamo di sopracciglia ma è un argomento che è molto trasversale no è quindi un argomento che interessa sicuramente chi fa il trucco permanente ma può interessare in maniera un po più allargata tutte le persone che lavorano nell'estetica tutte le persone che lavorano nel make up e se vogliamo anche tutte le persone in generale perché le donne che si aggiustano le sopracciglia e non lo sanno fare nel modo corretto come dire sono tante sicuramente queste informazioni possono essere utili perché stasera parliamo di come ottenere una forma perfetta per le sopracciglia quindi che che cosa vuol dire questo andiamo a cercare di capire qual è la forma alla quale si deve tendere no quindi lo standard che ci serve come punto di riferimento per creare una forma una forma delle sopracciglia allora iniziamo subito a salutare le persone che già sono in diretta con noi johnny johnny ormai ci sei sempre anna rita ciao narita adinuta ciao ciao devora ciao debora piera piera lai ciao carmen buonasera a te vito buonasera buonasera vito anche a te benissimo eli ciao ciao eli anche te claudia ioli ciao che bello che ci siete siete in molti anche questa sera anche su facebook c'è già un certo numero di persone allora per chi non lo sapesse siamo in diretta per chi vedesse questi video per le prime volte siamo in diretta contemporaneamente sia su facebook che su youtube io cerco di tenere tutto sotto controllo soprattutto perché essendo in diretta mi potete fare delle domande e ovviamente io posso rispondervi in diretta questo rende le lezioni di trucco permanente molto più utili se vogliamo perché chiunque avesse un dubbio che gli venisse in mente può chiedermi diciamo cosa ne penso oppure ne possiamo parlare insieme in diretta quindi i dubbi vengono per quello che è possibile in una lezione comunque tutto sommato per tanto lunga che sia breve rispondere e diciamo così parlare di una serie di argomenti abbiamo infatti silvia che ci saluta ciao silvia ciao ciao eccoci qua ti facciamo vedere anche online ecco ti qua sei su facebook benissimo allora dicevo stasera parleremo di sopracciglia perfette vediamo di dare due o tre indicazioni prima di iniziare il video come vi dicevo in diretta allora può essere molto utile sicuramente per una questione di diffusione del video per chi sta su facebook condividere il video in modo che ci sia un pochino più di diffusione e anche perché sono sicuro che il discorso sopracciglia interesserà a molte persone quindi basta cliccare su condividi e sicuramente molta gente in più lo vedrà per quello che riguarda youtube è molto facile farlo anche su youtube perché c'è proprio il tasto condividi anche su youtube bene allora vi ricordo due o tre cosine al volo volanti il prossimo corso di venezia che si tiene la settimana prossima quindi ci siamo ci siamo ci siamo è ormai pieno da tempo e quindi non si può più partecipare però è il prossimo quindi lo ricordiamo il corso di torino era pieno ma una persona si è spostata in un corso successivo e quindi abbiamo un posto libero cioè si è liberato un posto per chi ne volesse approfittare il corso del 25 26 27 febbraio tanto ve li faccio andare qua così 25 26 27 febbraio a torino c'è un posto disponibile il corso di como invece anche questo vi è piaciuto tanto e infatti anche su como da tre posti che avevamo la volta scorsa vi ricordate abbiamo più un posto disponibile per quanto riguarda il corso di como 25 26 27 marzo e attenzione qua mi fermo perché il 25 26 27 marzo è un corso molto particolare molto particolare non che gli altri non lo siano ma questo un po di più perché perché il 26 di marzo è il mio compleanno e io il 26 di marzo sarò al corso ad insegnare al corso di como quindi chi ci sarà al corso di como si becca la festa di compleanno di stefano strano ok va bene non che vi cambi la vita ma potrebbe essere una cosa carina invece invece devo dire che il corso avanzato quindi cambiamo discorso il corso avanzato pelo per pelo vi è piaciuto vi è piaciuto tantissimo tanto che ci sono più soli tre posti disponibili per il corso di piacenza dell'11 e 12 di marzo quindi per chi avesse voglia e piacere di imparare la tecnica del pelo per pelo ci sono ancora tre posti disponibili attenzione perché tre posti volano via velocemente e quindi non vorrei fare come è successo a venezia che proprio ieri una persona mi ha telefonato che voleva partecipare e non potrà partecipare perché ahimè il corso è pieno ok vi ho detto tutto ah ecco importante anche direi che è giusto menzionarlo il corso di lecce che accontenterà i nostri amici del sud è anche questo già messo molto bene abbiamo ancora tre posti disponibili quindi il 15 il 16 il 17 di aprile siamo a lecce qualche giorno prima sarò a roma ma a roma come voi sapete ci sono moltissime richieste quindi probabilmente non so nemmeno se se ve lo dirò mai che faremo il corso a roma perché in un attimo si riempie e a palermo sempre a maggio quindi attenzione attenzione che saremo anche al sud vengo a trovarvi al sud e vengo a beccarmi il sole ok allora cominciamo a dire qualcosa di interessante ma prima abbiamo qualche forse domanda vediamo un po' andiamo a vedere una volta dobbiamo fare se sei d'accordo una raccolta di domande così puoi fare una lezione magari spiegandoci punto per punto su tutte le cose certo allora possiamo tranquillamente fare una serata dove rispondo alle domande basta mettersi d'accordo nel senso che io posso in qualche modo raccogliere tutta una serie di domande e cercare di rispondere è un tipo di video che facevo circa un paio di anni fa e riscuotevano un certo successo e quindi perché non ripeterli adesso che abbiamo anche diciamo la possibilità di farlo con una qualità migliore per tutti buonasera Milena buonasera Eliana benissimo ok ovviamente sempre grazie infinite per tutto quello che fai ma figurati lo faccio con grande piacente e quanti anni farai mi chiede Johnny no quanti anni farò non ve lo dico non ve lo dico intanto la barba ormai mezza bianca dovrebbe dovrebbe rivelarvi molte cose i capelli i capelli se ne sono andati da un po' la barba è bella bianca e quindi non c'è bisogno che vi spieghi quante cifre ho però vi dico che sono negli anta ecco vi basti sapere che sono già negli anta ok ok va bene poi per chi viene per chi per chi viene al corso vedrà la torta la candelina ma magari una foto la mettiamo allora partiamo un pochino con il vivo della nostra della nostra questione come ottenere sopracciglia perfette è un annoso problema è un annoso problema e voglio iniziare attenzione Vito mi scrive Vito mi scrive una domanda mi dice sono aperte le iscrizioni di maggio a palermo sì Vito non solo sono aperte ma ci sono già degli iscritti e quindi vale come vale per tutti gli altri corsi siccome i miei corsi sono molto piccoli per chi decidesse di partecipare conviene prenotare il posto onde evitare il rischio di trovarsi poi senza perché io comunque i miei corsi sono anche se ci fosse molta richiesta i miei corsi restano piccoli preferisco piuttosto fare un corso in più magari a distanza di un po' di tempo ma non affollare i corsi ok Natalia ciao buonasera anche a te allora dicevamo quando si parla di sopracciglia di di forma perfetta delle sopracciglia e mi sembra doveroso fare alcune premesse soprattutto perché è un discorso molto di ampio respiro e che va a toccare tantissime professionalità come dicevo prima non solo noi che facciamo trucco permanente ma anche il mondo dell'estetica più in generale ma anche in generale il mondo un po' di tutte le donne e attenzione da un po' di tempo a questa parte anche degli uomini perché sono molti moltissimi gli uomini che oggi si aggiustano le sopracciglia quindi ormai è un tema generale ma in realtà è sempre stato un tema generale perché le sopracciglia sul viso ce l'hanno sempre avute tutti diciamo che però negli ultimi anni c'è si è diffusa molto la cultura della cura delle sopracciglia e questo è giusto perché le sopracciglia sono in tutto e per tutto uno dei degli aspetti più importanti della nostra mimica facciale per chi di voi avesse mai letto i libri di Paul Ekman che è uno psicologo antropologo che ha studiato la mimica facciale ha scritto diversi bei libri io devo dirlo li ha tutti tutti quelli che ha scritto lui e le sopracciglia fanno parte di quella che è la mimica facciale perché voi immaginatevi una persona senza sopracciglia tutte le sue espressioni vengono ridotte moltissimo invece una persona con le sopracciglia sbagliate ad esempio potrebbe dar da pensare a delle come dire delle facce delle delle sensazioni diverse da quelle che lui realmente sta pensando quindi curare le sopracciglia non è soltanto un fatto meramente estetico ma diventa un fatto vero e proprio di comunicazione interpersonale lo sapete che a me questo discorso è molto mi sta molto a cuore per via dei miei studi ma ma andando ancora più indietro io ho studiato queste cose perché ho avuto forse già un po la sensibilità di capire quanto queste cose siano importanti per la vita di tutti i giorni quindi le sopracciglia hanno una valenza veramente molto 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 importante da mettere alla pari con gli occhi i movimenti degli occhi che anche questi ovviamente fanno parte della mimica facciale in maniera incredibilmente importante e ovviamente le labbra anche le labbra nel mondo puramente estetico noi dobbiamo quindi cercare di dare una forma che sia il più possibile coerente e che segua degli standard per tutti è vero che gli standard sono standard e come dice la parola stessa è un qualche cosa che vale sempre per tutti ma se andiamo a vedere non vale per nessuno cioè mi spiego meglio dare delle regole standard vuol dire avere un modello al quale ispirarsi quindi un modello al quale tendere si dice no e quindi muoversi in direzione di quel modello lì non perché io devo fare uguale al modello ma perché e attenzione a seguitemi bene perché io devo utilizzare il modello per poter fare su ogni persona delle sopracciglia un po diverse ma che abbiano delle caratteristiche che si avvicinino il più possibile al mio modello standard è un discorso che messo così può sembrare complesso ma in realtà in moltissimi settori dell'estetica ma in moltissimi settori in generale si ragiona in questo modo cioè c'è un modello di riferimento si cerca di avvicinare il più possibile al modello di riferimento ma sempre con la mediazione che la mediazione derivata dal fatto che ogni persona con cui noi abbiamo a che fare non è generale ma è particolare che cosa vuol dire questo sostanzialmente vuol dire che noi avremo sopracciglia forse tutte un po diverse ma tutte dovranno avere delle caratteristiche comuni che sono le caratteristiche del nostro modello di riferimento spero che questo discorso sia chiaro perché è attenzione saluto anche anna maria ciao da facebook ciao mayra ciao 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 dicevo attenzione perché questo discorso messo così è veramente un modo di pensare che aiuta a rendere tutto il nostro lavoro molto più coerente vale la stessa cosa chiaramente anche per le labbra un po meno per gli occhi per l'eyeliner ma per le labbra vale anche questa stessa cosa e se ad esempio io vedo un sacco di errori di proporzioni delle labbra e il motivo è proprio per una mancanza di una cultura generale di base e quindi la mancanza di un modello di base che permetta di fare delle labbra come si deve faremo poi magari un'altra serata dove parliamo delle labbra quindi questa sera non vi parlerò di labbra e non vi parlerò nemmeno di sopracciglia maschili ok perché perché è un argomento a sé e quindi vediamo stasera le sopracciglia femminili che sono quelle che interessano a chi come noi sostanzialmente fa trucco permanente tutti i giorni abbiamo una domanda salve perché anche prendendo bene i parametri al momento del tracciato non vengono mai uguali è una cosa spiegata troppo brevemente nei corsi allora anna giorgio sinceramente non ho molto capito la domanda cioè perché anche prendendo bene i parametri al momento del tracciato non vengono mai uguali è una cosa spiegata troppo brevemente nei corsi no beh allora se la se il disegno delle sopracciglia il progetto delle sopracciglia è fatto con un certo criterio per forza vengono uguali e se non vengono uguali ci sono c'è il criterio che serve per renderle uguali ora è chiaro che io non vi posso spiegare in una breve lezione per tanto lunga che sia è comunque breve tutto il procedimento il processo che serve a disegnare sulla cliente delle sopracciglia è un argomento che noi veniamo vediamo in maniera piuttosto approfondita nel corso base ok quindi per chi avesse piacere sa che lì facciamo questa cosa poi facciamo una serie di ripetizioni chiamiamole così nel gruppo di lavoro online però così nelle lezioni su youtube io cerco di dare c'è anche marzia con coni ciao marzia cerco di dare delle informazioni cercherò adesso di darvi delle informazioni su quello che è il modello a cui tendere ok se dopo che hai fatto il disegno anna non ti vengono le sopracciglia uguali io penso che tu intenda destra e sinistra no probabilmente quello che manca magari non è il metodo di costruzione delle sopracciglia ma il metodo di controllo che poi ti manca cioè quindi la parte dopo quando si controlla la nostra cliente per vedere se sono uguali o meno e capire come fare a fare quelle piccole modifiche che dovrebbero essere piccole in teoria per renderle uguali chi ha fatto il mio corso sa benissimo che nel mio metodo di lavoro sono previste sono previsti più volte dei momenti dedicati semplicemente al controllo anche durante la fase di lavoro cioè sono sono proprio io come sapete uso dei metodi molto rigidi no cioè nel senso dei passaggi obbligati e quindi nei tre passaggi obbligati c'è anche il controllo se il controllo viene fatto bene è inevitabile che le sopracciglia diventino uguali o quasi perfettamente uguali ricordiamoci sempre che la simmetria perfetta è molto difficile da ottenere anche perché il cranio delle nostre clienti così come il nostro non è perfettamente simmetrico e anche 1 2 mm di differenza rendono la vita difficile ecco perché ad esempio ma qua stiamo già sforando un po di argomento è io sconsiglio di utilizzare gli stencil sconsiglio di utilizzare ad esempio alcuni alcuni metodi di misurazione diciamo così perché non tengono conto della asimmetria del nostro viso quando ripeto sempre purtroppo sono sono questioni che nei corsi ho molto più tempo per spiegare la differenza che c'è ad esempio tra misurare direttamente sulla fronte oppure misurare con un righello rigido in quanto noi abbiamo la proiezione di quello che vediamo e ci dà un maggior un maggiore controllo di quello che facciamo però voglio continuare con quello che stavo dicendo se no ci perdiamo su quelle che sono le proiezioni delle sopracciglia ed è un argomento un po un po un po pesantuccio diciamo così abbiamo su facebook antonella oriente ciao antonella monica ciao monica manuela anch'io le voglio le voglio perfette certo che ce la farai le voglio fare perfette a certo sì sì e me ce la farai sicuramente adesso vediamo come quali sono le regole standard ok allora accendiamo questo mio fantastico aggeggio aggeggio meccanico ecco sì mi ricorda il mio aggeggio elettronico mi ricorda una cosa simpatica piacevole particolare che è il vostro attestato online quindi per tutte le persone che seguono le lezioni online quindi anche se tu in questo momento è la prima volta che vedi un video di questo genere sai che le lezioni se frequenti le lezioni online puoi ottenere il tuo attestato di partecipazione cosa vuol dire è un attestato che ti puoi stampare in pergamena o in carta anche normale ti arriverà via mail basterà scrivere info a questo indirizzo info chiocciola stefanostrano punto it specificando che tu partecipi alle lezioni online e otterrà il tuo attestato di partecipazione poi potrai chiaramente utilizzarlo magari nel tuo studio insomma appenderlo insieme agli altri attestati e a furia di seguire le mie lezioni sicuramente qualche cosa ti è arrivato almeno questo è quello che io mi auguro allora vediamo un pochino di capire quali sono le principali cose da tenere in considerazione perché le sopracciglia funzionino sostanzialmente e parliamo di sopracciglia femminili ok adesso andiamo a fare un disegno così casuale di sopracciglia femminili e non a caso non a caso lo sto facendo molto squadrato non a caso ok perché lo sto facendo squadrato ve lo spiego subito chi ha studiato un po di pittura chi ha studiato pittura o chi si diletta di pittura sa benissimo che per arrivare a delle forme morbide arrotondate rotonde ad esempio per fare un ritratto si parte sempre da forme molto più squadrate perché perché le forme squadrate vedete che io tutte le volte che vi dico una cosa subito dopo vi dico il perché questo è un mio modo generale di ragionare è perché io vi voglio dare degli strumenti per comprendere quello che dico ma soprattutto per fare in modo che voi diventiate autonomi cioè che voi impariate che dopodiché siate in grado di fare le cose da soli ok quindi vi dico perché questa cosa qui perché il nostro cervello riesce a gestire molto più facilmente i poligoni semplici piuttosto che le forme curve arrotondate e quindi voi avrete visto sicuramente mille volte quei disegni composti da tanti triangoli o da tanti quadrati ma sostanzialmente tanti triangoli la famosa triangolazione no che con questi poligoni semplici siamo in grado di costruire delle forme incredibilmente complesse se noi portiamo questa cosa sulle nostre sopracciglia ci rendiamo conto che alla fine le sopracciglia non sono null'altro che una cosa del genere e cioè la combinazione di un parallelepipedo e di un triangolo quindi se vogliamo possiamo dire di questa parte e di questa parte questo è un parallelepipedo questo è un triangolo ok o se vogliamo essere un po più semplici possiamo dire questo è un rettangolo e questo è un triangolo ok perché dobbiamo fare questo perché questo ci fa rendere conto ad esempio quando dobbiamo prendere le misure quando dobbiamo stabilire i punti di inizio e di fine se noi lavoriamo in questo modo è molto più difficile che ci perdiamo ad esempio nelle asimmetrie del viso è molto più difficile che ci lasciamo trasportare da altre cose no da peli pochi peli tanti peli osso frontale sono tutta una serie di cose e vediamo un attimino come fare quindi quando si prendono i punti diciamo i punti che adesso vedremo ve li spiego poi quando si uniscono i punti si ottiene una forma di questo tipo quindi ricordiamoci sempre che per fare una forma morbida dobbiamo partire da una forma dura ok e qui abbiamo ad esempio johnny che è sempre presente ed è molto simpatico ma è anche molto preparato e ci dice lo stesso principio vale per il 3d nel graphic design perché sono strutture composte di poligoni che creano un reticolato digitale per disegnare le forme esatto è proprio quello che dicevo prima i poligoni semplici messi insieme tra loro ci permettono di arrivare a fare delle forme molto complesse noi qui siamo ad un livello semplicissimo perché utilizziamo due poligoni quindi quando voi pensate alle sopracciglia dovete pensare semplicemente a due poligoni un rettangolo che sarebbe più corretto chiamarlo ai che abbiamo anche miriam ciao miriam grambone ciao e maria rosaria ciao dicevo voi pensate ad un rettangolo sarebbe più corretto chiamarlo parallelepipedo ma il rettangolo va bene e un triangolo ok adesso facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire come costruire questi punti ora non possiamo adesso per questioni di tempo vedere esattamente come si fanno a prendere tutti i cinque punti è un discorso lungo che impiego molto tempo anche durante i corsi però vediamo di capire le caratteristiche generali che queste invece riusciamo e sono altrettanto utili allora come vedete da qui i punti da prendere in considerazione sono cinque che sono uno qui uno qui uno qui uno qui e uno qui ok quindi possiamo numerarli uno due tre quattro e cinque questi sono i cinque punti che ci servono per costruire le sopracciglia in questo caso il sopracciglio sicuramente avrete notato che c'è un ordine un po strano un po particolare ma vedrete che tra un po sarà tutto più chiaro a parte che devo fare una piccola modifica ma vedrete che tra un po vi sarà tutto più chiaro anzi la facciamo subito la piccola modifica che è qua perché così mi risulta più chiaro questa linea qua la dobbiamo fare un pochino più bassa ok questo è successo perché io ho disegnato prima ho disegnato prima i punti il eccolo qua così è più giusto ok dicevo avendo fatto prima la forma e poi dopo ci ho messo i punti anche io ho sbagliato invece vanno fatti prima i punti e dopo la forma ok allora vediamo un attimino come leggere questi punti come dicevo vedete che sono in un ordine non consecutivo o meglio sembrerebbe non consecutivo ma in realtà è un ordine che ha una sua logica una sua logica perfetta qual è la logica di questi punti non è la non sono consecutivi in senso diciamo così perimetrale no in questo senso ovviamente questo è facile da capire perché dopo l'uno ci dovrebbe essere il due ma invece hanno una logica che riguarda la loro altezza cioè sono in ordine di altezza o meglio dal più basso al più alto e quindi in questo modo adesso le guarderete e sarà molto più più semplice capire di cosa stiamo parlando vi faccio subito vedere cosa intendo abbiamo qui il punto numero uno abbiamo qui il il punto numero due abbiamo qui il punto numero tre il punto numero quattro e il punto numero cinque quindi uno due tre quattro e cinque adesso vedete come tornano perfettamente i conti l'ordine è palese in questo momento perché guardandolo così dici ma come mai stefano fa quest'ordine qui ma nel momento in cui vi spiego che l'ordine invece di altezza e quindi facendo tracciando le linee diventa tutto più chiaro ora il punto è perché noi dobbiamo ordinarli in altezza e non in maniera perimetrale semplice perché noi dobbiamo trovare questi cinque punti quindi partendo dal numero uno e andando da quelli che vanno più in alto cioè partendo dall'uno poi dal due poi dal tre poi dal quattro e poi dal cinque quando disegniamo le sopracciglia la cosa più importante da tenere in considerazione è l'altezza di questi punti e quindi è bene avere un ordine mentale molto rigido molto preciso su come deve essere l'ordine di questi punti e andiamo quindi a fare alcune osservazioni attenzione che abbiamo alcune osservazioni francesca gentile ciao ad inutra scrive io ho letto da qualche parte che un sopracciglio è perfetto quando il numero uno è sulla stessa linea in altezza col numero due allora ne parliamo subito e però no non sono d'accordo no non sono d'accordo e infatti è una delle cose che stavamo vedere adesso vi stavo stavo facendo vi stavo facendo vedere come costruire il sopracciglio ma adesso adesso commentiamo questa costruzione ok dicevo nel momento in cui noi andiamo a costruire il nostro sopracciglio dobbiamo partire dal punto numero uno trovato il punto numero due dobbiamo trovare il perdono il punto numero uno andiamo a cercare il punto numero due questo punto e come lo cerchiamo sappiamo e questa è la prima cosa importantissima ed è una delle cose principali da sapere delle sopracciglia femminili attenzione perché questo è uno dei punti principali in assoluto è che il punto numero due deve essere sempre un po' più alto del punto numero uno ok quindi la coda del sopracciglio deve essere sempre un po' più alta della testa del sopracciglio un po' non sto parlando di una differenza estrema ma un po' più alto ok un po' più alto in alcuni casi ad esempio nei casi dove abbiamo un cranio molto stretto è difficile fare questa cosa e allora possiamo diciamo anche prenderci la libertà di rimanere uguali al punto numero uno perché più in alto si fa proprio fatica in quei casi lì ma negli altri casi normali invece deve essere sempre più in alto mai attenzione mai never come dicono gli americheni andare sotto il punto numero uno quindi non deve mai succedere questo cioè avere questa situazione non deve mai succedere perché? beh molto semplice ora ve lo faccio vedere vi faccio anche un po' ridere cerco solo di rimettere la foto come era prima altrimenti ci perdiamo eccolo qua altrimenti succede questo questo lavoro qui e cioè la coda più bassa della testa ci fa un bell'occhio cadente una bella stella cadente anziché un occhio quindi l'occhio molto cadente quindi attenzione il punto numero due sempre 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 e dai sempre più in alto del punto numero uno vi faccio rivedere quindi le linee come vedete tra il punto numero uno e il punto numero due c'è una certa distanza andiamo avanti questa era una cosa fondamentale il punto numero tre è ancora un pochettino più in alto del punto numero due un pochino più in alto come chiamiamo noi il punto numero tre lo chiamiamo come come si chiama nel mondo del make up e chi ha studiato make up e chi è in grado di fare un make up quindi tutto il mondo delle estetiste ma anche chi fa trucco permanente che ha studiato un po' di make up che magari ne viene dal mondo dell'estetica no? ma poi per carità anche chi ad esempio è parrucchiera che conosce sicuramente bene questo mondo ma in generale anche un po' tutte le donne che si truccano conoscono questa cosa qui e veniamo a noi si chiama punto luce il punto numero tre non è altro che il famosissimo punto luce ok? il punto luce del make up che diciamo così la parte sottostante questo punto numero tre che più o meno è di questa dimensione è la parte più sporgente dell'osso cranico la parte sporgente dell'osso cranico e attenzione il punto luce deve stare sotto il nostro sopracciglio o meglio diciamo al contrario il sopracciglio deve sempre stare sopra il punto luce il punto luce è la parte dell'osso cranico più esterna quella che appunto come dice il nome in quanto più esterna prende più luce si chiama così perché prende la luce del sole un po' come il naso no? vi racconto una breve una breve cosa è simpatica simpatica cosina lo sapete perché l'alluce si chiama alluce no? che dal latino evidentemente è semplice che vuol dire ad lucem no? quindi alla luce no? l'alluce era il dito alla luce perché? perché ai tempi dei romani ovviamente non avevano granché a rammendare i calzari non c'era granché di persone che rammendassero i calzari e quindi il pollice l'allucione del piede questo ditone rimaneva sempre fuori ed era chiamato proprio il piede che dito è quello? è quello che sta alla luce alla luce alla luce ad lucem ma ad lucem è diventato l'alluce ok? quindi sapete anche sta roba qui ok? il punto luce infatti deriva proprio dal fatto che è il punto che sta più alla luce e noi quando facciamo il make up non facciamo altro che caricare di luce qualche cosa che già di natura è un punto luce quindi il punto numero 3 è il punto che delimita che deve stare appena sotto il nostro naturale punto luce ok? se non avete capito o se avete dubbi visto che il discorso non è semplicissimo scrivetemelo io in diretta vedo le vostre domande e vi posso rispondere ok? se c'è qualcosa che non va andiamo avanti allora bene ok siete in tanti anche su facebook stasera? bene? bene visto che siete in tanti su facebook la cosa mi fa tantissimo piacere potreste schiacciare condividi così siamo ancora di più già che io sto facendo sta lezione che credo interessante possa essere interessante un po' per tutti perché è una lezione un po' tanto trasversale stasera andiamo avanti sul nostro sopracciglio il nostro sopracciglio teorico perché sicuramente qualcuno un domani un dopodomani mi verrà a dire ma che lezione hai fatto? ma ti sembra un sopracciglio? quello ma che lezione hai fatto? ma lo so che succederà? succederà succederà voi non avete idea non avete idea di cosa mi è successo in privato dopo il video della settimana scorsa il video che avevo intitolato e che ho intitolato verità scomode no? è successo un bel putiferio devo dire moltissimi di voi mi hanno scritto ringraziandomi ho ricevuto moltissimi messaggi di colleghi e colleghe ringraziandomi però per il resto gente che mi ha scritto di tutto e di più ma la cosa non mi disturba allora invece in questo caso in questo caso qualcuno mi dirà ma che sopracciglio come fa a fare una lezione con un sopracciglio così squadrato? semplice perché se uno ha studiato un po' di grafica un po' di disegno sa che prima di fare una cosa arrotondata e morbida si fa squadrata e per comprendere il nostro cervello comprende molto meglio di fronte a delle figure semplici piuttosto che di fronte a delle figure molto complesse allora vediamo un pochettino abbiamo qua forse alcune domande come hai precisato prima stiamo parlando di sopracciglia di una donna e standard sì io vi sto parlando attenzione di sopracciglia femminili e di sopracciglia standard nel senso che devono essere un modello al quale tendere ok l'ho già detto prima Adinuta scrive il punto 3 sta proprio sotto il 5 o più all'interno adesso ne parliamo Natalia basta avere una mente schematica Natalia sì certo ma sai la mente schematica come dire se vogliamo un po' tutti ce l'abbiamo nel senso che quando abbiamo uno schema su cui lavorare poi dopo se siamo artistici ci possiamo sopra fare tutti i ghirigori del mondo io vi ricordo sempre lo ricordo anche a tutti i miei allievi che ad esempio Picasso nonostante lui facesse nell'ultima parte della sua vita il suo grande famoso cubismo con questi visi un po' particolari ma lui non è sempre stato così lui ha studiato pittura seriamente voi andate a vedere i dipinti giovanili di Picasso lui ha fatto dei ritratti meravigliosi ma ritratti quasi fotografici lo stesso vale per Van Gogh andate a vedere i dipinti giovanili di Van Gogh cioè proprio i dipinti del periodo in cui lui si stava formando come artista lui queste persone avevano delle solidissime basi teoriche solidissime si vede che avevano studiato i quadrati e poi dopo ci hanno fatto sopra tutto il resto ok allora Adinuta scrive se il punto numero 3 deve stare per forza sotto al punto numero 5 tra pochissimo te ne parlo perché prima del punto numero 5 chiaramente dobbiamo andare a capire il punto numero 4 il punto numero 4 è il punto che ci dà lo spessore del nostro sopracciglio quindi il punto numero 4 ci serve per individuare lo spessore cioè noi grazie al punto numero 4 noi stabiliamo quant'è lo spessore del nostro sopracciglio ora è chiaro che stabilire quale sia lo spessore giusto per le sopracciglia è praticamente impossibile per un motivo molto semplice perché le sopracciglia da questo punto di vista non seguono regole standard e soprattutto non seguono regole durature nel tempo per chi avesse piacere ho fatto un video mi pare un anno fa circa un anno un anno e mezzo fa ciao Federica Federica Rondelli ciao dicevo ho fatto un video un anno e mezzo fa circa che si intitola proprio la moda nelle sopracciglia dove ho fatto un interessante e divertente analisi della moda nelle sopracciglia negli ultimi 70 anni e quindi andando indietro di 70 anni ho analizzato la moda nelle sopracciglia perché come voi sicuramente ormai sapete la moda è qualche cosa che ci sta intorno ci permea tutta la nostra vita e anche le persone che pensano di non seguire la moda in qualche modo invece un po' la seguono e qualcuno so già che qualcuno di voi dirà ma no assolutamente io non seguo la moda non seguo la moda e allora fate un esperimento volete vedere se seguite la moda anche voi o no? bene prendete una vostra foto di 10 anni fa per chi è un po' più avanti con l'età di 20 o magari anche di 30 anni fa e ditemi se siete vestiti nello stesso modo se utilizzate le stesse scarpe se utilizzate lo stesso taglio di capelli ad esempio oppure se c'è qualche differenza io sono sicuro che tutti voi avrete molto da dire e troverete molte differenze anche semplicemente prendendo una foto di 5 o 6 anni fa senza andare troppo lontano e infatti anche le sopracciglia seguono ovviamente questa forma queste regole perché tutti veniamo comunque influenzati da alcuni da alcune icone standard che un po' ci vengono imposte dal grande mercato e un po' ce le imponiamo da soli e ripeto ho fatto questo video dove prendo in considerazione le sopracciglia fino a circa 70 anni fa ed è incredibile come di decade in decade la moda nelle sopracciglia ha voluto prima le sopracciglia sottili poi 10 anni più tardi erano molto spesse per poi ritornare a essere sottili e così via in maniera ciclica da spesse a sottili da sottili a spesse vi faccio un esempio banalissimo che tutti voi sicuramente vi ricordate ad esempio le unghie di bibi ciao bibi ciao buonasera un esempio che voi sicuramente ricordate vi ricordate la quella Pamela Anderson la famosissima attrice che faceva Baywatch negli anni 2000 erano i primi anni 2000 beh lei aveva lanciato se si può dire così una nuova moda di sopracciglia sottilissime proprio molto 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 sottili molto molto sottili perché se ne veniva da dal dieci anni precedenti dove Cindy Crawford con le sue fantastiche sopracciglia beh devo dire Cindy Crawford mi piaceva molto di più di Pamela Anderson però diciamo così aveva aveva sopracciglioni invece Pamela Anderson sottili no e adesso siamo di nuovo in un periodo anche se ne stiamo un po' uscendo devo dire ne stiamo un po' uscendo ma abbiamo passato un periodo di diversi anni in cui buonasera Junia in cui le sopracciglia di nuovo abbastanza spesse di nuovo abbastanza incolte o finte incolte l'hanno fatta un po' da padrona e io devo dirvi che ad esempio nella mia esperienza di trucco permanente ho passato questi questo periodo questi periodi li ho un po' vissuti perché mi ricordo che un tot di anni fa mi chiedevano le sopracciglia molto più sottili e poi ho visto che ho visto aumentare la richiesta di sopracciglia più spesse fino in questo periodo in cui tutti si raccomandano che le sopracciglia siano abbastanza visibili sono abbastanza certo e senza timor di smentita perché la storia è dalla mia parte che siamo già in una fase discendente e che quindi le sopracciglia stanno già ritornando in una dimensione media e sono abbastanza certo che da qui a un massimo di 3-4 anni uscirà qualche icona che porterà di nuovo le sopracciglia più sottili ad essere di moda ma aspettiamo chi vivrà vedrà però diciamo così io non avrei nemmeno scoperto l'America perché si tratta semplicemente di seguire quello che è l'andamento dell'ultimo secolo cioè quindi è sempre stato così non vedo perché dovrebbe cambiare ok quindi per tornare alla nostra costruzione vedete tutta questa spiegazione ve l'ho fatta perché per spiegarvi banalmente che lo spessore del sopracciglio è qualcosa sul quale non si può granché discutere il consiglio migliore e più saggio che posso darvi è cercate di preservare il più possibile il pelo naturale delle vostre clienti di evitare gli eccessi evitare l'eccesso di troppo spesso e l'eccesso di troppo sottile perché gli eccessi sicuramente stufano più velocemente quindi se noi cerchiamo di adattare le nostre sopracciglia a quello che potrebbe già essere un po' il sopracciglio naturale delle nostre clienti difficilmente andiamo a sbagliare certo se ci arriva una cliente con dei cespuglioni così non possiamo fare questo ragionamento ma nella media più o meno ci siamo vi posso dare un dato ancora più preciso vi posso dire che le sopracciglia attualmente più o meno stanno in una media tra i 6 e gli 8 millimetri di spessore qua sono stato molto preciso ma come voi sapete io ne faccio tante sopracciglia e mi diverto a misurarle e quindi dicevo più o meno ad oggi stiamo su una media tra i 6 e gli 8 millimetri non è assolutamente un dato come dire che voi dovete prendere come verità però vi posso dire che la media è questa quindi vuol dire che se andate sui 9 10 millimetri che è un centimetro state facendo delle sopracciglia parecchio spesse belle cicciotte grosse spesse se invece andate sui 4 5 millimetri state facendo delle sopracciglia un po' più sottoline sottoline attenzione abbiamo delle notizie notizie su facebook alla buonasera stefano la seguo tanto ma molto spesso non riesco a vedere le sue dirette mi dispiace barbara comunque complimenti di cuore grazie grazie mille barbara io vi ricordo che le dirette restano poi presenti sia su facebook che su youtube quindi per chi per chi vuole può vederle domani dopodomani insomma i prossimi giorni e quando ha piacere di vederle non vengono cancellate assolutamente quindi torniamo allo spessore delle nostre sopracciglia dicevo lo spessore vedete un po' voi quello che vi sembra più corretto in base alla vostra cliente il punto numero 5 e così torniamo un pochino anche alla domanda che mi era stata fatta prima oh Veronica Candia ciao Veronica ciao il punto numero 5 non è altro che il riporto di questo stessa di questa dimensione qui di questo stesso spessore qui lo riportiamo anche qui pari pari uguali identico uguale identico uguale identico da qui possiamo fare alcuni ragionamenti e cioè che da qui a qui le sopracciglia quindi nella parte del corpo delle sopracciglia che è questa dovrebbero avere lo stesso spessore dall'inizio del corpo a questa zona qui lo stesso spessore e quindi non dovrebbero avere non dovrebbero fare quello che vedete purtroppo in molte situazioni non dovrebbero fare questo cosa che si vede molto spesso e che veramente ogni volta io sento una fitta al cuore quando vedo queste robe qui mamma mia vedo veramente una fitta al cuore ok allora ah ecco c'è qualcosa mi dite che la connessione ha qualche difficoltà cerco di capire come mai devo dire che qua non mi dice non mi dà nessun problema mi dice che è tutto ok per quanto riguarda la connessione non vi so essere più di aiuto di così perché mi dice che è tutto ok mi dice che è tutto ok non so come mai però mi dice che è tutto ok dicevo io vado avanti mi spiace se qualcuno non riesce a vedere bene ma la connessione qua è tutto ok non ha problemi dicevo questa situazione è assolutamente sbagliata molte clienti la chiedono questa cosa perché perché passano la vita a depilarsi qui 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 in maniera smodata ed evidentemente evidentemente poi credono che questa sia la cosa più giusta da fare ma non c'è niente di peggio invece è una roba veramente terribile la cosa corretta invece da fare è avere lo stesso spessore nelle sopracciglia in tutta la parte del corpo delle sopracciglia chiamiamolo così il corpo del sopracciglio è questa parte qui il corpo del sopracciglio quindi questa zona qui tutta dello stesso spessore so che voi state pensando agli angoli a tutte ste robe qui ve lo spiego dopo adesso l'importante che vi entri questo concetto cioè dall'inizio alla fine del corpo del sopracciglio lo spessore deve essere lo stesso io ripeto le cose più volte non perché penso che voi non mi capiate ma perché ci possono essere persone che magari si sono perse qualche parola e allora mi conviene e lo faccio per tutti in modo che io voglio che tutti possano capire bene allora ma come si fa quando consiglia una cliente delle misure giuste in base ai suoi tratti e invece vogliono esagerare e non rimaniamo soddisfatti almeno a 80% del nostro lavoro come si fa a convincerle beh Natalia è molto difficile quello che tu chiedi perché effettivamente la cliente quando viene da noi vuole uscire contenta e se ha un'idea in mente è difficile spostargliela se quell'idea è sbagliata certamente io mi capita che cosa faccio in questi casi sicuramente io quando propongo una forma propongo una forma corretta poi se la cliente mi chiede qualche cosa che non va che non va che è sbagliata insomma che non funziona tanto bene faccio vedere alla cliente diverse diverse foto diverse cose diciamo foto di lavori già fatti vi faccio vedere il giusto come dovrebbe essere cerco di far capire alla cliente che a volte mi chiede delle cose che non vanno bene semplicemente perché è abituata all'errore se sei abituata a farti delle sopracciglia che sembrano delle virgole delle virgole io le chiamo virgole le sopracciglia fatte così cioè le sopracciglia fatte così no quelle fatte così io le chiamo virgole ecco se sei abituata ad avere delle virgole chiaramente una forma fatta corretta ti sembrerà qualcosa che non va ma io dico sempre alla cliente fidati che è molto più facile abituarsi alle cose belle piuttosto che alle cose brutte quindi se ti farò delle sopracciglia in ordine belle con una bella forma tra un paio di giorni quando guarderai le foto di come eri prima dirai ma come facevo andare in giro così dirai sicuramente così e da qui ovviamente poi ci sono tutti i compromessi non è semplice so benissimo che non è semplice andiamo avanti allora dicevo quindi riportare al numero 5 la stessa dimensione e mi è stato chiesto ma il numero il numero 5 deve stare più verso l'interno più verso l'esterno esattamente sopra adesso lo vediamo perché adesso vediamo al momento in cui dopo che abbiamo fatto tutte abbiamo preso questi punti e li abbiamo uniti abbiamo ovviamente ottenuto questa forma qui quindi ci troviamo di fronte a questa cosa qui e dobbiamo per forza di cose renderla un po' più accettabile un po' più esteticamente corretta attenzione però non prima di aver fatto anche l'altro sopracciglio cioè quantomeno aver preso le misure perché se dobbiamo fare le sopracciglia simmetriche è molto più semplice fare le sopracciglia simmetriche lavorando sempre in maniera un po' squadrata piuttosto che arrotondare bene un sopracciglio e poi fare l'altro questo ci rende la vita molto complessa molto difficile mentre se le lasciamo un po' più squadrate sarà molto più semplice prendere le misure per andare a fare diciamo così la parte la parte simmetrica dall'altra parte questo è proprio un consiglio spassionato che vi do poi è ovvio che chi di voi ha tanta pratica tanta manualità io stesso non seguo esattamente questo sistema questo è un sistema che io spiego innanzitutto a chi deve imparare a chi non ha ancora magari tanta pratica a chi ha bisogno di un punto di riferimento preciso e rigido è chiaro che se tu che sei una persona che stai facendo trucco permanente da dieci anni e mi dovessi dire sì ma Stefano ma ci sono dei metodi più complessi oppure più rapidi tutto quanto io ti rispondo sì certo lo so bene ma tu non puoi pretendere che un insegnante insegni le cose difficili a chi inizia chi inizia deve avere qualche cosa che funzioni io vi do questo sistema perché questo sistema funziona ed è semplice perché è logico ha una logica basata sull'altezza basata su poligoni semplici e quindi è semplice da apprendere a chi si approccia al trucco permanente però vi dico che questi stessi standard sono gli stessi che utilizzo io e adesso vi farò vedere anche alcuni lavori dove potrete voi con i vostri occhi vedere che io effettivamente ho utilizzato questi standard perché io quello che vi dico non solo ve lo spiego ma vi dimostro anche che è esattamente quello che faccio io nella mia vita di tutti i giorni ok allora andiamo a vedere come arrotondare le nostre sopracciglia una volta che abbiamo fatto una bella forma così ah ecco no no attenzione prima vi devo dire un'altra cosa importantissima eh eh oppure questa non la volete sentire eh ve ne devo dire una che è altrettanto importante di tutto quello che ho detto fino adesso è eh un po' più macchinosa ma no vi vediamo subito si parla di proporzioni e cioè che proporzioni devono avere le sopracciglia perché di questo non l'abbiamo visto abbiamo visto che deve avere un corpo abbiamo visto che deve avere una coda ma non abbiamo visto quale deve essere la proporzione tra corpo e coda quindi che quanto deve essere lunga questa parte rispetto a questa parte non l'abbiamo visto e allora lo vediamo allora c'è una regola che è la regola dei quinti che vi permette di stabilire quanto di cioè quale proporzione dare a queste alle sopracciglia ovvero quanto deve essere lunga la parte del corpo del sopracciglio rispetto alla parte della coda del sopracciglio ed è abbastanza semplice e cioè voi fate finta di dividere tutta la lunghezza del sopracciglio in cinque parti una due tre quattro e cinque e voi sapete che tre parti stanno nel corpo del sopracciglio e due parti stanno nella coda del sopracciglio quindi quando voi dovete stabilire dove fare questo punto come lo stabilite lo stabilite tramite la regola dei quinti dove avremo tre quinti nella parte del corpo del sopracciglio e due quinti nella parte della coda del sopracciglio ovviamente è una regola standard ma è una regola che funziona molto bene funziona molto bene vi assicuro che funziona molto bene anche perché ovviamente non sono numeri casuali ma sono numeri che si rifanno a quella che è la sezione aurea e voi sapete che la sezione aurea è una proporzione sostanzialmente una proporzione che risulta gradevole ai nostri occhi in natura è presente è presente un po' dovunque e anche noi il nostro occhio è portato a ricevere come informazioni più gradevoli quelle informazioni visive che rispettano questa proporzione se facciamo le sopracciglia in questo modo rispettano questa proporzione stessa cosa insegno anche per le labbra ma lo vediamo un'altra volta quindi torniamo alle nostre sopracciglia l'abbiamo fatte in questo modo quindi abbiamo troviamo eccolo qua abbiamo raggiunto questo risultato dopo aver fatto i puntini averli messi insieme aver rispettato la proporzione dei quinti e ci troviamo in questa situazione adesso dobbiamo arrotondarle un pochino per renderle come dire più gradevoli no per tirare fuori effettivamente una forma dove poi all'interno noi andremo a fare la nostra finitura che potrà essere una finitura di qualunque tipo dalla sfumatura riempimento frastagliato di uno di due colori come insegniamo nei corsi al pelo per pelo insomma la finitura che faremo dentro a questa forma poco importa si sceglie dopo mentre qua ci stiamo occupando della forma più schematici siamo più funziona allora andiamo a vedere come fare come arrotondare prima di tutto dovete sapere che la curva che sta sotto deve essere continua senza interruzioni una curva continua aspetta però lo facciamo lo facciamo con un altro colore altrimenti non si vede ok facciamo rosso ok la curva sotto deve essere una curva continua senza interruzioni senza interruzioni quindi deve partire da qui e andare avanti senza fermarsi fino alla fine questo angolo questo angolo non si deve sentire c'è ma è una curva non è un angolo vivo altra cosa qualcuno tende a fare questo lavoro e cioè a creare una s sul sopracciglio qua ho esagerato un po' per farvi capire a me non piace vi dico la verità io preferisco partire dritto non mi piace la s qualcuno lo fa qualche cliente ve lo chiede il risultato sarebbe questo a me non piace voi ovviamente siete liberi di fare come credete diciamo che la s sotto lì sta bene soltanto su alcuni tipi di donne che io ho individuato come ad esempio le persone le donne molto alte molto prestanti quindi persone che hanno tendenzialmente sopracciglia abbastanza evidenti di natura tipicamente le persone dell'est sul tipo mediterraneo invece secondo me non è ottimale a me non piace molto devo dire infatti non lo faccio quasi mai e lo sconsiglio torniamo al nostro arrotondamento anche questo angolo non può essere così squadrato ovviamente deve essere un po' smussato un po' però non molto un po' smussato dobbiamo proprio toglierci solo la parte fastidiosa diciamo il dente diciamo così va tolto ok per il resto invece qua una linea unica bene fino in fondo questo angolo invece questo angolo qui lo possiamo smussare molto di più attenzione a non smussarlo troppo adesso esagero ve lo faccio apposta è troppo così è troppo smussato e non va bene perché perché ci assottiglia troppo questa zona qui e quindi non dobbiamo smussarlo in questo modo no così no vediamo come smussarlo invece possiamo smussarlo così una cosa del genere e cioè gli diamo un po' ecco un po' di morbidezza togliendo togliendo l'angolo duro ma dobbiamo comunque dare l'idea dello spessore giusto andiamo avanti chiaramente rimanendo sulla linea che abbiamo fatto perché dobbiamo mantenere lo spessore e ci troviamo di fronte al nostro punto numero 5 vi ricordate il punto numero 5 ve lo faccio rivedere qui il punto numero 5 che adesso giustamente ci possiamo chiedere ma devo portarlo un po' più avanti devo portarlo un po' più indietro tendenzialmente tendenzialmente il punto numero 5 io tendo a mantenerlo a seconda del tipo di cranio un po' più avanti o un po' più indietro e quando dico a seconda del tipo di cranio intendo proprio il tipo di cranio perché ci sono alcune persone che per per la loro morfologia cranica non permettono di stare più indietro perché stare più indietro vorrebbe dire distruggere totalmente la la come si dice la regola dei dei quinti diciamo che un millimetro avanti un millimetro indietro valutatelo in base al cranio della vostra cliente ma comunque su per giù deve stare abbastanza sopra il 3 in ogni caso in ogni caso qua io tendo ad arrotondare abbastanza non troppo ma abbastanza cioè questo angolo qui che si chiama apice del sopracciglio e si chiama apice del sopracciglio per un motivo banale perché è la parte più alta del sopracciglio e quindi in quanto parte più alta lo chiamiamo apice tendo io a non farlo molto acuto molto cattivo molto duro questo angolo però è una di quelle cose che lascio decidere alle clienti ok ci sono clienti a cui piace un po' più aggressivo clienti a cui piace un po' meno aggressivo certamente io quando preparo il disegno per loro lo faccio guardando che persona ho di fronte ci sono clienti che per come si presentano per come si vestono per come ad esempio hanno occhiali non hanno occhiali anche per come parlano hanno bisogno di un angolo un po' più aggressivo e clienti che invece hanno assolutamente bisogno di un angolo più dolce noi faremo la proposta il più giusta possibile e poi ovviamente dobbiamo anche fare in modo che la cliente sia d'accordo con noi abbiamo una domanda ma questo tipo di tecnica in cui valutiamo anche queste smussature partendo dalle linee di contorno sono per una tecnica di forma piena o non per il pelo per pelo questo tipo di disegno vale per qualunque tecnica poi ci farai dentro perché è la forma dentro la quale tu farai il tuo lavoro ora poi ci arriviamo ora poi ci arriviamo ti faccio vedere però vale per tutte le tecniche andiamo avanti dicevo quindi questo angolo in questo caso l'ho smussato abbastanza ok si può fare un po' più un po' meno smussato quindi lasciare l'angolo un po' più vivo oppure l'angolo lasciarlo così morbido come ho fatto io è un esempio la coda poi non deve essere come noi l'abbiamo fatta all'inizio triangolare quindi da qui a qui dritta ma dobbiamo dargli un pochino ora scusate mi metto un po' di lato perché se no non ce la faccio un pochino di pancia in modo che abbia in qualche modo una una forma più dolce più dolce ora andiamo a togliere la parte squadrata ecco quello che rimane ci rimane questa forma qui vi faccio rivedere questo è allora eccoci qua questa è la forma dalla quale siamo partiti abbiamo rispettato la regola dei quinti abbiamo rispettato l'altezza 1 2 3 4 5 e abbiamo tirato fuori dopo aver smussato gli angoli questa forma che come vedete sicuramente molto bene da casa è una forma assai gradevole dolce ok quindi una forma che ben si adatta ad un viso lo spessore abbiamo visto che è una questione molto personale ma mi sembra che sia abbastanza adeguata ecco un sopracciglio del genere lo potrei vedere su una persona ad esempio che di suo ha già una buona quantità di pelo naturale in ogni caso questa è la forma entro il quale noi andremo a fare il nostro sopracciglio quindi attenzione noi non dovremo mai e poi mai tatuare il perimetro mai e poi mai per carità mai e poi mai si tatua il perimetro il perimetro serve esclusivamente a noi per sapere dove dobbiamo lavorare ma non esiste non esiste tatuare il perimetro come si faceva un milione di anni fa e ancora questi reperti archeologici purtroppo ce li troviamo da aggiustare ed è molto difficile il perimetro non si tatua mai nemmeno se la cliente ci chiedesse un riempimento puro proprio mi fai un tribale si te lo faccio il tribale ma il perimetro non lo tatuo comunque ok perché il perimetro è una schifezza assoluta quindi non si fa invece dopo aver fatto una forma del genere diciamo così abbiamo la libertà la possibilità di fare qualunque tipo di lavoro adesso vediamo un po' se riesco a chiappare il pennello giusto però ad esempio si può fare ovviamente no ok possiamo fare un po' diciamo di peli e adesso sto facendo una cosa molto al volo così senza senza nessuna veleità solo per farvi capire che non becco il pennello giusto ecco qua diciamo giusto per farvi capire che cosa si può fare magari mettendo un pochino di sfumatura qua nella parte più finale ok insomma tanto per farvi un pochino capire una volta fatta la nostra finitura ecco qua quale che sia la nostra finitura adesso non è che voglio perdere tempo a farla chiaramente avremo perso il toglieremo perché abbiamo perso cancellando il nostro disegno e rimarrà un sopracciglio con una forma molto credibile ok adinuta scrive cosa intendi per tatuare il perimetro allora adinuta mi scrive cosa intendi per tatuare il perimetro bene te lo faccio subito vedere il perimetro allora vediamo un po' il perimetro è questo tatuare il perimetro vuol dire andare lì col dermografo e fare miiii cioè tatuarlo nel senso di fissarlo con l'ago e poi dentro farci quello che volete fare ecco questo noi non lo faremo mai cioè non andremo mai a tatuare questa cosa qui questa parte qui noi andremo a fare un disegno all'interno di questa parte qui e poi come dire una volta tolto il perimetro che avevamo fatto col nostro pennellino rimane un lavoro ora ripeto questo è fatto così al volo ci posso lavorare quanto voglio ma adesso non è che volevo farvi vedere una finitura vi ho dato solo giusto un'idea adesso vi faccio vedere vi faccio vi faccio vedere qualche foto di lavori già fatti torniamo nella chat ecco adinuta spero di essermi spiegato se no te lo ripeto adinuta giorni mi scrive mi spiace per voi ero ovvio chi vi occupate di questo scusate la domanda è una forma preparatoria esattamente è esattamente una forma preparatoria vediamo se abbiamo anche su facebook qualche domanda no ok ci siamo bene ok allora quindi siamo noi in questa situazione il che vuol dire che abbiamo eseguito il nostro lavoro ok vi ripeto e lo ripeto anche per tutti quelli che guarderanno questo video e domani mi diranno ma che finitura hai fatto Stefano la finitura ma che finitura hai fatto Stefano non è una finitura di esempio diciamo che comunque è sicuramente più bella di gran parte delle sopracciglia che vediamo in giro anche tatuate anche fatte da gente che si spaccia per essere grande insegnante di trucco permanente questa fatta in tre secondi così è sicuramente meglio ma poco male quindi non è questa una lezione dove spiego le finiture io ho spiegato come disegnare le sopracciglia bisogna sempre dirlo altrimenti è un guaio Vito scrive quali sono i punti del sopracciglio più senza pelo rispetto alla luce scusa non capisco quali sono i punti del sopracciglio più denso di peli rispetto alla luce non capisco tanto la domanda Vito mi sembra di capire che tu mi spieghi che mi stai chiedendo quali zone devono essere più scure o più chiare del sopracciglio beh io così al volo un po' già l'ho fatto sicuramente la coda deve essere più scura in senso generico e poi se si fa il pelo per pelo ci sono un po' delle altre regole da questo punto di vista però diventa un po' adesso fuori luogo parlarne però sicuramente la coda la facciamo un po' più un po' più scura in generale in generale la facciamo un po' più scura ho fatto un video dove parlo proprio del chiaroscuro nelle sopracciglia se hai voglia di andartela a vedere e qua è fatto così male al volo senza senso ma in questo video dove parlo proprio del chiaroscuro nelle sopracciglia si chiama e lì troverai una serie di informazioni molto interessanti a proposito di questa cosa adesso torniamo a come era fatto prima che era più carino diciamo così su per giù più o meno vediamo un po' ecco se togliamo le varie sfumature eccole qua diciamo che la parte della coda tendenzialmente deve essere sempre un po' più scura della parte davanti ok diciamo che se vogliamo fare un gradiente partiamo da qui con la parte più scura e andiamo avanti verso di qua schiarendo quindi scuro chiaro però questo discorso Vito lo dico per te ma lo dico per tutti la diciamo la questione chiaroscuro nelle sopracciglia anche lei ha delle questioni generiche che valgono sempre però veramente cambiano molto a seconda della finitura quindi è una roba che va presa un po' più con le pinze Natalia scrive tanto chi è qui sempre capisce che è solamente uno schema per rendere l'idea certo Natalia esattamente cioè è proprio quello che vi dico io è proprio uno schema per farvi capire oggi ho voluto vedere come si costruiscono le sopracciglia vedrete che se voi utilizzerete queste regole che abbiamo visto oggi che poi adesso magari le ripassiamo al volo un attimo farete le sopracciglia molto più precise assolutamente vi faccio vedere vi faccio vedere qualche lavoro che ho fatto io dove possiamo andare a verificare quello che ho appena detto no? quindi vediamo un pochino andiamo qui ecco allora ad esempio questo questi sono diciamo vi faccio vedere 3-4 lavori che ho fatto io come vediamo se riuscite ecco ecco si dovrebbe vedere vedete che questo che è il punto questo il punto numero 1 e cioè dove inizia il sopracciglio è chiaramente più alta della coda questo è chiaramente più alto della coda il punto numero 3 lascia il punto luce sotto come vedete qua il punto numero 4 e il punto numero 5 hanno lo stesso spessore cioè il corpo del sopracciglio ha lo stesso spessore dall'inizio alla fine e il punto numero 5 per rispondere alla domanda di prima è lievemente più interno rispetto al punto numero 3 andiamo a vedere un'altra foto come vedete anche questa foto ritrova le stesse regole questi sono lavori che ho fatto io quindi possiamo ritrovare esattamente le stesse regole e cioè il punto numero 1 questo come vedete qui così è più in basso del punto numero 2 cioè la coda è più in alto della testa il punto il punto numero 3 è assai più alto perché in questo caso avevamo un viso che richiedeva delle sopracciglia un pochino più aggressive ma anche perché l'osso frontale era fatto così una ragazza molto alta un bel viso grande e quindi stava molto bene e anche in questo caso vedete che il corpo del sopracciglio ha lo stesso spessore dall'inizio alla fine andiamo avanti anche questo lavoro segue le stesse regole come vedete quello che io vi spiego quello che io vi insegno è quello che io effettivamente ogni giorno utilizzo questa zona è più alta di questa zona punto luce stesso spessore in tutto il corpo del sopracciglio stessa cosa vale anche qui e in tutti i lavori vale anche la regola dei due quinti tre quinti quindi qui vediamo se riesco a vediamo se riesco a disegnarvelo al volo credo di sì troppo grosso allora se vogliamo possiamo trovare anche la regola dei due quinti tre quinti ora sto disegnando col mouse quindi mi perdonerete se non è precisissimo questi due qua sono un po' più stretti per un motivo di prospettiva questo lo dico sempre per chi guarderà il video e poi romperà le balle c'è la prospettiva perché noi quando disegniamo le sopracciglia stiamo lavorando sulla fronte che è curva e quindi queste se noi le srotolassimo su un piano sarebbero un po' più lunghe ecco perché questi due queste due parti sono un pochino più corte di queste perché c'è la prospettiva e infatti la proporzione è perfetta tre quinti due quinti ok potete andare a vedere tutte le mie foto di sopracciglia e troverete la stessa proporzione ovviamente ci aggiungo anche un più o meno più o meno perché le clienti sono tutte diverse ok bene allora vediamo un po' Antonietta Leone mi scrive mi sono persa come stabilisci il punto 1 bene allora ripartiamo da capo rifacciamo tutta la lezione adesso te lo dico Antonietta Natalia dice romperà le balle sei forte sì sì qualcuno che romperà le balle ci sarà sicuramente nel senso che dirà eh ma perché tu il punto la cosa la prospettiva le cose e niente poi vai a vedere i suoi lavori fanno schifo evidentemente sempre è logico allora vediamo un po' di rientrare sul nostro disegno iniziale allora sul nostro disegno iniziale per rispondere a Antonietta allora come troviamo il punto numero 1 andiamo sul diciamo sul nostro sopracciglio squadrato ti tolgo diciamo tutte le cose eccolo qua ecco come trovare il punto numero 1 non è che te lo sei perso Antonietta è che proprio non l'ho non l'ho spiegato perché trovare il punto numero 1 e cioè e cioè questo richiede una certa procedura che adesso sarebbe un po' lunga da spiegare e quindi ho dato per scontato che chi ha fatto qualche corso chi sappia come farlo non posso adesso mettermi a spiegare come trovare tutti i punti perché in realtà non ho non ho spiegato come trovare praticamente nessuno di questi 5 punti vi ho solo detto le caratteristiche che devono avere cioè vi ho dato delle caratteristiche cioè il punto numero 1 cioè caratteristiche che sono una in relazione all'altra quindi il punto numero 1 deve essere più in basso del punto numero 2 però non ti ho spiegato né come trovare il numero 1 né come trovare il numero 2 perché se no ci vogliono 4 ore perché più o meno è il tempo che impieghiamo durante i corsi per fare questa roba qui capisci? è veramente siamo online da 1 ora e 20 e abbiamo giusto visto in maniera giusta in maniera direi completa ma comunque abbastanza superficiale il tutto cioè io spero di avervi dato delle regole di massima che vi possano essere utili per disegnare le vostre prossime sopracciglia credo assolutamente di sì a parte il fatto che potete tornare indietro e rivedervi il video quante volte volete voi potete utilizzare queste regole per stabilire se il vostro sopracciglio è giusto sta andando nella giusta direzione o meno però è chiaro che il come prendere le misure sulla cliente questo e quindi come costruire le sopracciglia fa parte di un metodo di lavoro che spieghiamo bene nel dettaglio ma ci vogliono tre giorni di corso e quindi come puoi immaginare è difficile adesso così cioè anzi abbiamo già detto un sacco di cose perché è più di un'ora e venti che parlo quindi meno male ci siamo ok ma Antonietta tanto noi probabilmente ci vedremo presto quindi sicuramente potrai non perderti anche questa questa lezione qui ok bene allora dicevamo artista indipendente grazie mi dice artista indipendente Tania vi ciao ciao anche a te mi dice non me ne perdo una mi fa tantissimo piacere grazie ti ringrazio moltissimo di questa tua attenzione che mi lusinga come mi lusinga l'attenzione di tutti voi perché comunque insomma come dire essere qui e dedicarvi del tempo è bello anche perché voi lo dedicate a me il tempo e questo mi piace moltissimo Antonietta giustamente dice mi rivedrò il video anche perché la connessione è saltata qualche volta no no Antonietta non ti preoccupare non hai perso assolutamente pezzi allora facciamo un riassunto veloce delle regole primarie fondamentali nel frattempo se voi avete delle domande scrivetele così rispondiamo prima di chiudere il video di questa sera allora andiamo ai nostri cinque punti che sono i primi i cinque punti che troviamo diciamo con un metodo che adesso non abbiamo spiegato ma che comunque dobbiamo trovare sappiamo che questi punti sono in un certo ordine e non sono in ordine casuale ma sono in ordine di altezza eccolo qua visti così si capiscono molto meglio ok 1 2 3 4 e 5 si capisce come mai sono in questo ordine quindi non seguono il perimetro altrimenti sarebbero 1 2 3 4 e 5 oppure 1 2 3 4 e 5 insomma ma sono invece 1 2 3 4 e 5 perché sono in ordine di altezza ok benissimo poi una volta trovati i punti li uniamo proprio come fanno i bambini e otteniamo questa forma che è una forma fatta da un parallelepipedo che possiamo chiamare rettangolo anche se proprio non lo è e un triangolo ok quindi un parallelepipedo e un triangolo quando troviamo questa forma come dire non è bello il sopracciglio ma è giusto non è bello ma siamo sulla buona strada ok allora qua Johnny scrive volevo sapere nei tuoi lavori che hai mostrato come esempi che ago avevi usato per il dermografo so che non è inerente proprio la lezione ma volevo saperlo per lo spessore delle linee guarda nei video nei lavori che hai visto tu ci sono ho usato sia l'ago 1 che l'ago 3 RL sempre quindi però poi per le sfumature ci sono anche aghi da 5 e anche aghi magnum quindi ti ho risposto così ok molto rapido una volta trovate queste forme dobbiamo ricordarci che devono seguire questa regola che è la regola dei quinti famosissima regola dei quinti e cioè che il corpo del sopracciglio deve avere una lunghezza di 3 quinti la coda del sopracciglio deve avere una lunghezza di 2 quinti una volta stabilito che il nostro sopracciglio è squadrato comunque queste regole le segue bene allora possiamo partire con l'ammorbidire le forme ricordandoci che la parte sotto deve essere una linea unica che questo angolo deve essere smussato ma pochissimo questo altro angolo può essere smussato un po' di più ma non troppo altrimenti si perde lo spessore l'angolo dell'apice del punto numero 5 lo smussiamo in base alla cliente 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 più aggressiva lo smussiamo meno cliente più dolce gentile lo smussiamo di più dopodiché ci troveremo questa situazione dentro la quale potremmo fare un magnifico sopracciglio di qualunque tipo di qualunque genere e adesso lo farò casuale così quelli che vogliono rompere le balle così faccio ridere Natalia mi diranno che io faccio le sopracciglia così e che non va bene ecco io l'ho fatto apposta per loro quindi se tu che stai guardando il video ti vuoi divertire a dire che io faccio le sopracciglia sbagliate bene sappi che ti ho appena preso in giro sei stato vittima del mio scherzetto ok ok sì sì ce l'ho proprio con te che sei arrivata fino qui o sei arrivato fino qui solo per vedere come facevo le sopracciglie ecco beccati questo ok va bene sì la forma questa devo dire è venuta piuttosto bene ma come potete immaginare nel quando si lavora dal vivo tutto questo va fatto con molta attenzione con il giusto tempo vi posso dire che io impiego spesso anche una buona mezz'ora a fare il disegno fatto bene no mi è capitato di metterci anche di più mi è capitato di metterci anche di meno ovviamente però diciamo che tra i 20 e i 30 minuti li dedico sempre alla decisione della forma parlando molto con la cliente cioè è un momento in cui io mi dedico moltissimo alla cliente ed è un momento anche dove sono veramente tanto tanto concentrato è forse il momento in cui sono più concentrato perché ricordatevi sempre vi voglio dare un consiglio che è importantissimo nel trucco permanente la forma è la cosa principale perché se fate bene la forma quello che voi ci tatuate dentro ha importanza ma fino a un certo punto saranno delle buone sopracciglia se invece voi fate un tatuaggio fantastico una bellissima finitura ma la forma è brutta saranno delle brutte sopracciglia quindi dedicate un sacco di tempo allo studio della forma un sacco di tempo allo studio della forma perché è veramente fondamentale è una delle cose che dobbiamo studiare è una delle cose che dobbiamo imparare in questo mestiere bellissimo difficilissimo dove dobbiamo sapere un sacco di cose per poterlo fare bene e la forma è una di quelle cose che dobbiamo sapere veramente molto bene il metodo che io vi ho illustrato è il metodo che insegno ai corsi base ma è il metodo che va benissimo per tutta la vostra carriera è chiaro che arrivati a un certo livello di conoscenza poi qualche cosa si può cambiare però adesso non vi dico nient'altro per non confondervi soprattutto per non confondere le persone che mi stanno seguendo per le prime volte e le persone che sono all'inizio diciamo questi video vi ricordo sempre che sono video divulgativi che hanno l'obiettivo di farvi arrivare delle cose soprattutto per farvi capire che qui parliamo di trucco permanente in maniera libera come dico sempre ormai l'avete imparato tutti il segreto è che non ci sono segreti come vedete con 5 punti e 4 regole precise si possono tenere delle bellissime sopracciglia tutte le sopracciglia che vedete possono rispettare semplicemente queste regole la cosa difficile è avere un buon metodo e io sono qui per questo quindi mi raccomando cioè se tu che mi stai guardando se all'inizio hai un po' di problemi non ti preoccupare io sono qui apposta noi siamo un bel gruppo ti puoi unire a noi ci fa solo che piacere seguici stai con noi a lunedì sera se poi hai delle difficoltà non ti preoccupare scrivimi io cercherò di risponderti come faccio sempre con tutti con i miei tempi ma rispondo sempre a tutti perché di solito rispondo velocemente cioè perché non mi va che qualcuno che abbia delle difficoltà non venga aiutato e quindi non ti preoccupare aiutata ovviamente aiutata aiutato è assolutamente indifferente ok e quindi molto bene mi auguro che questa lezione sia stata di vostro gradimento è stata una lezione un po' più tecnica un po' più difficilotta se vogliamo sì River Johnny scrive siamo un gruppo fantastico concordo concordo siamo un gruppo fantastico sta funzionando tutto molto molto bene e niente direi che a questo punto ci possiamo salutare è un'oretta e mezza che siamo insieme se non ci sono Carmen Carmen Truscello dice presente io sono nuova mi fa molto molto piacere grazie per essere qui con noi vediamo un pochino Rachele Tomasello mi dice ciao ciao Rachele ciao Valeria eccoci qua Maria Rosaria che ha seguito anche lei un corso e che è dotata di una mano eccezionale sta facendo i suoi primi lavori e direi con un ottimo con ottimi risultati anche perché è vero che ancora col colore qualcosina dobbiamo aggiustare però devo dire che la forma è molto buona Maria Rosaria devo dire che sono sicuro che tra non molto farai delle sopracciglia veramente eccezionali perché già ci sei considerato che hai iniziato da pochissimo sei veramente stai andando molto bene e lo dico volentieri davanti a tutti perché mi fa sempre molto piacere bene M non so che tu sia ma mi fa piacere grazie anche a te ok M mi ricorda mi ricorda James Bond no? perché non so se vi ricordate M era credo il il capo di James Bond si chiamava M di 007 ok Stefano ormai sei multitasking multitasking sì sì certo è vero faccio un sacco di cose mi faccio anche la regia da solo faccio tutto ok Ciro Camarotta ciao Ciro anch'io ti seguo questa è la prima volta in diretta ciao Ciro benvenuto spero che tornerai volentieri lunedì prossimo se avete delle domande scrivetemelo in questo video scrivetemele anche quando il video è finito io così cercherò di magari rispondervi durante i prossimi video una cosa importante scrivetemi anche sulla pagina Facebook domande o argomenti che eventualmente vi fa piacere di cui io ne parli perché come dire io come vedete parlo di molti argomenti ma magari c'è qualche cosa che vi farebbe particolarmente piacere e io posso dare come dire un po' più di importanza a quell'argomento lì ok fatemelo quindi sapere tramite la pagina Facebook anzi magari metterò io un post così ve lo ricordo però ovviamente voi dovete un attimo andarci a vedere magari insomma seguite mettete like fate un po' come vi pare ormai i social li sapete usare benissimo vi ringrazio tantissimo Eli ciao Eli 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 sarà con noi al corso avanzato pelo per pelo vi ricordo che abbiamo ancora tre posti disponibili sarà un corso bellissimo pieno di sorprese che andranno ben al di sopra e al di fuori del trucco permanente e spero proprio di lasciarvi oltre a delle informazioni tecniche molto precise spero di lasciarvi anche una bella esperienza spero che voi andrete via dicendo caspita vorrei fare un altro corso o quantomeno vorrei stare ancora un po' in questo gruppo ecco proprio per lasciarvi una bella esperienza ci sto lavorando e sono sicuro che ci riesco Martina Moretti ciao ok Martina mi dice la M dice sono Martina Moretti sono anche all'inizio di questo percorso e guardo sempre ogni lezione mi fa molto piacere sentiti libera di scrivermi se hai qualunque difficoltà per qualunque cosa vi ricordo invece questo lo dico a tutti che abbiamo i pigmenti a disposizione molti di voi li hanno già acquistati e quindi per qualunque cosa potete tranquillamente andare a vedere il video dove ne parlo se volete informazioni potete scrivermi su Whatsapp potete scrivermi su adesso vi do tutti i dire ecco potete scrivermi su info-stefanostrano.it potete anche scrivermi anche su Whatsapp che è molto facile anche 3 2 7 4 5 7 6 9 6 9 così potete scrivermi su Whatsapp se avete difficoltà di qualunque tipo o se vi fa piacere conoscere i pigmenti insomma diciamo che la possibilità di mettersi in contatto con me è sempre abbastanza facile io cerco di rispondere sempre a tutti altrimenti che insegnante sarei altrimenti che aiuto vi posso dare se poi mi cercate e non mi trovate cerco di fare quello che gli altri non fanno ok? vi ringrazio tantissimo e vi auguro una buona 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 notte ci vediamo lunedì prossimo e durante la settimana sulla pagina Facebook ciao 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 ciao